E45 in tilt per un mezzo pesante andato a fuoco è accaduto in corsia sud all'altezza di Verghereto nel comune di Forlì. L'arteria è rimasta chiusa in entrambe le direzioni creando non pochi disagi al traffico. Sul posto, vigile il fuoco di Arezzo e Sansepolcro, l'incendio sarebbe divampato nella cabina di una cisterna che trasportava olio vegetale. Le fiamme si sono poi propagate al carico che è andato a fuoco completamente. Il traffico è stato ripristinato poco dopo in direzione nord mentre nella corsia sud ci sono ancora forti disagi. Di conseguenza molti veicoli, anche i mezzi pesanti, hanno imboccato il passo dei Mandrioli dove la situazione è piuttosto critica. Questo è il secondo episodio di questo genere a distanza di poche ore. Ieri in corsia nord della 1 tra Monte Sanzavino e Arezzo è andata a fuoco una bisarca che trasportava autoveicoli. L'incendio, che ha messo a dura prova il traffico in questo tratto, si è esteso anche alla vegetazione circostante. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e Cortona e le pattuglie della Polstrada di Battifolle.